27 settembre 2019 Il figlio dell'uomo deve soffrire molto Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9 Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda Le folle che dicono che io sia Essi risposero, Giovanni il Battista Altri dicono Elia Altri, uno degli antichi profeti che è risorto Allora domando loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, il Cristo di Dio E gli ordinò a loro severamente di non riferirlo ad alcuno Il figlio dell'uomo disse, deve soffrire molto Essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi Venire ucciso e risorgere il terzo giorno La vita terrena del Cristo ha nel suo insieme delle vicende terribili Attraverso le quali è necessario passare Essi sono tutti in contraddizione con quello che vorremmo Che ci aspetteremo per noi e tanto più per Gesù Poiché hanno il segno della povertà, della ristrettezza Della incomprensione umana e del loro rigetto Specialmente quelle più chiamate e qualificate a capire ed accogliere il massia Persecuzione, emarginazione, torture e morte Sono inflitte senza giustizia per il Cristo E tutto si compie sulla croce Gli autori principali di tutto sono i capi del popolo I più qualificati sulla terra a riconoscere il Messia e a seguirlo Al contrario invece coloro che lo seguono Sembano essere l'eccezione Anche se abbiamo delle folle La massa dei giudei e dei galilei non accoglie Gesù Molti dei seguaci lo abbandonano Quando annuncia di essere il pane vivo del cielo da mangiare Dopo la cattura tutto sembra perduto E anche il gruppo degli undici rimasti Si dilegua di fronte alla forza prepotente dei poteri politici e religiosi Non c'è nessuna istituzione umana che lo riconosca E che non sia d'accordo per condannarlo Nel cuore dei suoi le sconfitte di rigetto da parte di molti appare scandaloso E certamente si riservano alla vendetta di chi sa che presto salirà il potere Sedendo alla destra e dalla sinistra del Messia incoronato Re Il Messia così potente non è sopportato nella sua umiltà E Pietro dopo la sua bella professione di fede in Gesù come Cristo figlio di Dio Scivola sul suo fondamento umano Che non accetta l'idea della crucifissione del Maestro Anche noi conserviamo nel profondo dell'anima La speranza del bene Dell'immortalità Della sconfitta del male Della giustizia trionfante Anche noi vorremmo che la verità trionfasse E la menzogna soccombesse Perché ciò che è vero deve brillare Quello che è giusto deve trionfare Quello che è vita deve durare La beatitudine interiore è cercata come il sole Non è questo quello che i discepoli del Cristo si aspettavano? Non è questo che anche noi vorremmo? In realtà Gesù disillude sempre e fin dall'inizio Tutte queste aspettative Perlomeno qui sulla terra Nasce povero Vive da umile E disprezzato in famiglia Preso per pazzo dai parenti Chiamato Beone Mangione Indemoniato Bestemmiatore Eversivo della legge mosaica Viene allontanato dal tempio Non ha una pietra dove posare il capo Freddo e digiuno lo accompagnano Ed infine i capi Decidono di metterli in croce Con l'accordo dei Romani Con il placeto di Erode E vi riescono Morte ed infamia Sono la conclusione del Redentore Gesù insiste nel predire quello che accadrà Come cosa necessaria Deve essere rigettato dai capi Deve essere crocifisso Deve morire a Gerusalemme Questa necessità che il padre chiede Il figlio l'accetta Per un progetto di amore per gli uomini Tale contraddizione È quella che più ci deve fermare a meditare Altrimenti non riusciremo mai Ad entrare nel suo spirito Gesù è modello di vita per noi In tutto quello che ha fatto E nel modo in cui ha vissuto Se non riprendiamo a tale assunto Non siamo nella sua sequela Cioè non prendiamo la nostra croce E non lo seguiamo Questo ha un significato assai profondo Difficile lettura Soprattutto duro da accettare Quello che Gesù assume È l'umanità nel suo peccato Di orgoglio, di superbia Di attaccamento alla terra Perché è privato dell'occhio spirituale Che guarda l'orizzonte dell'eternità Questi limiti e radici di peccato Sono le cose che Gesù deve vincere in sé Al posto nostro La gloria di Dio e la sua carità Sono le cose che l'uomo non possiede E quando anche le cerca Sono annebbiate, inquinate, oscurate Il potere è lo scopo satanico Messo nel cuore degli uomini E con esso Tutte le ingiustizie Anche mascherate con la legge divina Queste cose Devono essere affrontate Con lo spirito contrario E riscattate con la purezza assoluta di cuore Che rimanendo innocente Non si lascia contaminare Dalla risposta satanica Della vendetta Questa è l'opera divina Alla quale il Padre dona ricompensa Tutto il potere del cielo E della terra Alla sua destra Questo è il trionfo Della giustizia e della misericordia A cui noi Arriviamo Seguendo la medesima strada Gesù La via Io vi benedica Grazie a tutti